ciao allora come sta andando tutto bene tutto bene mi sembra una stupenda giornata oggi meglio di così un sacco di bambini si divertono nessun incidente e questa cosa più importante vero attenti al ponte a sinistra palo in mezzo al ponte signor sindaco bella giornata vero non c'è tanto sole non fa neanche tanto caldo e questa è la cosa migliore però cosa migliore sono i bambini certo giusto hanno un bellissimo spettacolo grazie buongiorno siamo qui al prima sosta e compattamento del questa fantastica giornata bim bim bici ed abbiamo uno degli organizzatori giulio moretti ciao giulio ciao giulio allora innanzitutto e dimmi i numeri di questa iniziativa intanto gli iscritti alla partenza erano 320 se non ne perdiamo qualcuno per strada dovremmo arrivare ma forse alla pasta asciutta ne troviamo anche di più 320 quindi un gran numero un gran bel numero il più dell'ultima volta che era stato tre anni fa che era stata organizzata bim bim bici c'è qualcosina di più bene fa quindi molto piacere anche la giornata promette veramente bene ecco parlaci dell'organizzazione delle associazioni che hanno organizzato questo evento niente come dico era già tre anni fa era stata fatta dall'associazione aria quella volta il gruppo che organizza il piedibus poi per un paio d'anni per problemi organizzativi non siamo riusciti a portarla avanti è un gruppo di genitori al di fuori associazione ha fatto presente che era molto bello poter riprendere questa questa biciclettata chiamiamola così perciò ci siamo insieme a questi genitori riattivati sia come associazione aria e anche come l'associazione qua che ci si sta la botteghina che ci ha fornito alcuni materiali e da qui insomma questo nuovo gruppo si è rimesso in moto e siamo qua mi sembra che ci sono tutte le premesse per un futuro ricco di successi bene vi chiediamo anche di guardare la galleria fotografica che vedrete su questa pagina del sito e buona giornata a tutti ciao grazie